Quanto consuma in autostrada una Model Y Performance a 130 km orari e quanti chilometri possiamo fare? Negli scorsi giorni sono partito dal confine sloveno e sono arrivato fino a Brescia percorrendo l'autostrada A4 tutta a 130 km orari in cruise control, 334 km e spendendo in energia 64 kWh. Il mio consumo medio è stato di 192 W al chilometro. Si può facilmente capire che ho speso esattamente 41 euro di energia elettrica ricaricando a 0,65 kWh al supercharger e considerando 75 kWh netti di batteria e includendo il consumo di 192 W al chilometro posso facilmente calcolare che questa Tesla Model Y Performance a 130 km orari in cruise control in autostrada pianeggiante ha un'autonomia teorica di 390 km. Fatemi sapere se scegliereste lei o un'automobile gasolio per fare la stessa strada.